Nome? Kirima. Cognome? Saidani. Città di provenienza? Parigi. Quali sono le sue capacità professionali? Pulizie e una qualifica come centralinista e telefonista. Le sue esperienze professionali? Sempre nella pulizia e pulizia. Le attitudini professionali, per cosa si sente più portata? Come centralinista e telefonista. Che tipo di lavoro cerca? Sempre quello, come telefonista, sempre a contatto con le persone. Perché un'azienda dovrebbe scegliere proprio lei? Mi piace il lavoro, anche se sono disoccupata. Allora, 2003, mi piace stare in contatto con le persone. Sono solare.